Non ho detto avanti un altro. Cosa vuoi? Arruolarmi, signor Capitano. Ormai la lista è completa. Non posso prelevare altri militari da effettivi già esigui. C'è rimasto soltanto un posto. Va bene, prenda me, no? Prego, soldato, sono arrivato prima io. Scusi, scusi, signor Capitano, è mica la corsa, no? Ci dia un colpo d'occhio prima di dire fuori uno e dentro l'altro. Anche il lato fisico mi pare dovrebbe avere il suo peso. Altesa 1,89, torace 98. Ma che ragionamenti? Allora pure io ho 45 e biede. Ma cosa c'è il trapiede? Appunto, diceva, al signor Capitano non gli servono mica i fenomeni alla baraccone. Quello che serve sono i nervi apposto, amor, patria, sprezza e il pericolo. E questa non mica la cosa che si misura col centimetro, non vero, signor Capitano? Ah, sì? E allora in quanto amor, patria, sprezza e il pericolo, caro mio bambino, non ce n'è uno che mi possa bagnare il naso, hai capito, pistola? Ah, insomma, signor Zì. Sì, signor Capitano. Tra pochi secondi questa bomba scoppierà. Vedremo chi di voi due ha veramente più sprezzo del pericolo. grazie a tutti i nostri amanti.